Allora, dietro di me e a fianco a me ci sono qualche partecipante di questo presepe, vi facciamo conoscere, avete visto i presepi nella nostra web tv, abbiamo visto le foto, ma forse qualcuno vuole vedere il nome e il viso di chi ha costruito questo bellissimo presepi. Allora, ci puoi dire come ti chiami? Fontanini Brunella. E dove è riesposta? A posto delle fragole Via Landinelli, numero 15. Come ti è parsa questa manifestazione? Guarda, bellissima, Sarzana è stata il numero uno, è stato grande e anche Massimo è stato un grande perché se non era per lui questa cosa qua non era. Tu sei un artista, è la prima volta che fai presepi? No, io faccio la parrucchiera la prima volta bello, bello. Lo faccio, perciò è presa, grazie. A fianco a me c'è? Simonetta Casabianca. Casabianca, sei un artista, Casabianca? Sì, ci provo. Dove è riesposta? Ero da Segreti di Odri, in piazza Calandrini, in piazza Calandrini. Ecco, la domanda di rito che ho fatta anche alla tua collega, cosa ti è sembrata questa manifestazione? Bella, veramente bella, una delle poche cose belle che finalmente hanno fatto perché era tanto che a Sarzana non si faceva niente, quindi veramente bella. Di dove sei? Di Ciparana. Tu invece? Di Castelnuovo Magra. Sei mia paesana, dai. E invece qui c'è un signore di? Carrara. Carrara, diciamolo, come ti chiami? Cappetta Giacomo ed era il mio presepe da Cartolibria Canale in piazza Garibaldi. Bene, cosa ne pensi di questa cosa, di questa edizione? Ottimo, perché è stato un concentrato di persone che ognuno ha portato il suo, un valore aggiunto all'interno di questa città che merita di più. Bene, affianca a me, è uno scoop, questo signore è quelli che lavorano dietro le quinte, che magari tanti non li conoscono, ma è il papà di Petolani. Buonasera. Buonasera, Petolani. Guardi, io ho partecipato a fare Massimo, sembra di aver fatto una bella cosa. Però lo possiamo dire che tu la mattina aprivi il portone del Lazio del Comune, lo chiudevi? Dietro le quinte ho fatto qualcosa anch'io, ben volentieri. Allora, un tuo commento, è finita? Siamo tutti contenti mi sembra, no? Bene. Siamo rinati in Sardana e speriamo che vada sempre meglio. Grazie. Allora, tutti gli amici di Spezia TV, grazie di tutto. Ciao. Ciao. Ciao.